Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e soprattutto buon anno nuovo. Speriamo naturalmente che possa essere per tutti più sereno di quello che non dimenticheremo appena trascorso. Primo videocorso dell'anno, mantenendo per strappare un sorriso lo stesso sobrio look degli ultimi videocorsi legati alle festività, in cui impariamo con poche mossa a realizzare in digitale un bel cruciverba. Proprio uno di quegli hobby che, anche per scopi non didattici, voglio dire personali, qualcuno tra noi sta magari utilizzando, insomma sta compilando proprio in questo periodo in cartaceo. Nulla da installare, nessuna pubblicità come vediamo anche in questa pagina, nessuna registrazione e nessuna difficoltà particolare. Sito di riferimento crosswordlabs.com, lo vediamo qui nella barra degli indirizzi. Consiglio sempre, browser Google Chrome o Mozilla Firefox. Poche regole. Nella riga in alto, clicca la riga bianca, digitiamo il titolo del cruciverba. Ad esempio, ripassiamo insieme, storia e geografia del nostro paese. Poi, nello spazio bianco sotto, cosa faccio? Digito quella che sarà la risposta che i miei compilatori dovranno digitare. Poi faccio seguire uno spazio vuoto, barra spaziatrice. Poi ancora, la domanda, quello che normalmente leggo nella leggenda del cruciverba. Unico criterio da rispettare è che tra ciascuna parola in elenco, in colonna, ci sia una vocale o consonante in comune, per creare l'intreccio tipico del cruciverba. Sarò ancora più chiaro, a parte che come vedete, cliccando in inglese sulla dicitura il need to see an example, noi possiamo vedere un cruciverba già preimpostato, però due domande con risposte poste. Allora, digito Brescia, spazio, e poi digito. È definita la leonessa d'Italia. Vado a capo con invio, secondo termine. Roma dovrebbe andare bene, ma lui ce lo dirà, perché riprende la vocale da Brescia, quindi la A, Roma, l'attuale capitale d'Italia. E così via. Tra l'altro, senza che ci fossimo messi d'accordo, scoperto con molto piacere che questa stessa risorsa, insieme ad altre, è stata anche catalogata dall'ottimo docente Roberto Sconocchini, maestro Roberto, che molti di voi conosceranno tramite il suo sito e i suoi account social. Saluto e ringrazio sempre anche Roberto, e vi mostro come pubblichiamo in un secondo il nostro cruciverba. Guardate. Allora, il famoso passcode, come vedete, consente, lo vediamo, la password, proteggerà la chiave di risposta e permette di effettuare modifiche successive. Quindi io qua la posso utilizzare, adesso ad esempio digito Cruciverba Italia. Vediamo già sotto l'anteprima, molto carino e semplice. Vedete anche l'intreccio venutosi a creare in questo caso, ha giocato la combinazione della consonante R. Io ho finito, eh. Come vedete, nella modalità priva persino di registrazione, io lascio la modalità Public, clicco sul pulsante rosso Save and Finish e guardate, cruciverba pronto. Non dobbiamo fare null'altro. Se non, cliccare poi su Share, pulsante rosso, e diffondiamo mediante link, dunque va bene, Classroom, dunque va bene, qualsiasi altro ambiente di restituzione. Nel momento, hop, ho cacciato via una notifica da Google Chrome, come avete osservato. Ebbene, io tramite URL, sostanzialmente la visualizzazione che state osservando, tramite Focus Mode URL, c'è una visualizzazione più grande, diffondo e faccio compilare e divertire con la compilazione del mio cruciverba e i miei destinatari. Guardate, prendo Focus Mode URL, clicco su Copy, vediamo bene come lo osservano gli altri, quindi vado a cliccare in alto a destra sui tre pallini, in questo caso sempre di Google Chrome, intendo, poi vado su Nuova Finestra di Navigazione in Incognito e a questo punto nella barra in alto, barra degli indirizzi, clicco con il tasto destro, poi tasto sinistro su Incolla, Invio. Questa è la modalità Focus, sembra in alto perché sono solo due domande e risposte relative, ma vedete, Focus vuol dire che non hai distrazione, vedi solo questo, proprio cruciverba pronto da compilare. Uno è cross e down, è definita la leonessa d'Italia e io scrivo Brescia, l'attuale capitale d'Italia e io scrivo Roma. La correttezza delle risposte fornite è data dal colore verde in cui appaiono le lettere. Ed ecco il nostro primo cruciverba, una occasione per divertirsi ed imparare in famiglia, ma anche un'ottima occasione per proporre un'attività diversa ed interessante in DAD, in DDI o in presenza. Ci rivediamo prestissimo con altri videocorsi anche in questo 2021. Nuovamente auguri ed un caro saluto sempre dal vostro tornato, con un look più sobrio, Andrea Cartotto. Ciao!